Se vuoi avere un angolo tutto tuo per parlarci di te e del tuo business, questo è lo spazio giusto per te. Le fonti TV e Pocket News sono a tua disposizione per raccontarci un tuo progetto, una tua idea o semplicemente per dialogare con un ampio pubblico di professionisti. Fare rete e creare sinergia è la ricetta giusta per essere sempre protagonista. Noi ci siamo, e tu? Le fonti Pocket News Flash, solo sulle fonti TV. Grazie a tutti.